Un saluto da Vincenzo Quarta, sono il covo manager del Covo Surbo in provincia di Lecce e approfitto per salutare tutti i covo manager, co-worker di tutte le sedi e per salutare anche gli aspiranti co-worker che volessero venire a trovarci a Surbo se passano dalla nostra città saremo ben lieti di ospitarli purtroppo le nostre postazioni sono esaurite ma ci stringiamo un po' e cerchiamo di trovare lo spazio anche per voi, saremo veramente felici è tutto, covo è bello, fate il co-working perché è bello a presto